Il traguardo si avvicina e le maschere cominciano a cadere. Lo trovo, non squallido di più. Non ti permettere di dirmi che io sono una falsa. Fai bravo di non dormire con le donne perché non vedo con chi dormi. Isolde, Fariba e Rosaria in nomination. Con Ilari Blasi, l'isola dei famosi. Venerdì in prima serata, Canale 5.